Alla fine dei tempi Gesù accoglierà gli eletti con queste parole Venite benedetti dal Padre mio, possedete il regno preparato per voi fin dall'origine del mondo. Questo perché l'adozione a figli di Dio, conquistateci da Lui con la Sua morte e redenzione, racchiude in sé anche il diritto alla eterna eredità divina. A me piace illustrare questo pensiero con una battuta piuttosto semplice. Quando un giorno io mi presenterò a San Pietro e San Pietro mi dirà che fai da queste parti? Dico voglio entrare in paradiso, io sono deceduto e quindi ti aspetto la mia eredità. E San Pietro dice ma quale eredità? Torna via, vai, vai, gira. Io protesterò perché dirò sono figlio di Dio e ho diritto alla mia eredità. Dio mi ha eletto come suo figlio. E quindi Pietro dovrà farmi entrare in paradiso. Queste sono le parole di Dio, le parole del Vangelo, le parole di Gesù. Questa è la bellissima eredità che il Signore ci ha dato. Il figlio ricevendo la vita dal padre ne riceva anche il diritto naturale a succederli nei beni e è suo erede nato così anche nella sfera soprannaturale delle nostre relazioni filiali con Dio. San Paolo afferma, se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio coeredi di Cristo. In Cristo noi siamo predestinati ad essere figli. In Cristo siamo anche stati fatti eredi. Ma l'unico bene di Dio è la sua eredità. E' egli stesso. Perché noi potremmo pensare, chi lo sa qual è il regno nei cieli, che cosa ci spetta di proprietà personale. E' semplice. Essere eredi è essere eredi di Dio. Cioè teniamo la vita in Dio e non si può desiderare altro. Dove Dio saremo noi. Nel Vangelo, bellissimo, fanno la domanda a Gesù. Quanto andremo in paradiso? Che cosa faremo? Come si svolge la vita in paradiso? E Gesù non è che porta un discorso teologico. No, ha fatto. Dice in paradiso vi è un grande banchetto dove si mangia e si ride e si scherza. Si è contenti. Si è contenti. E dove non c'è la preoccupazione di pagare le cambiali. E se si capita vicino a uno con cui sulla terra si è fatto sempre discussioni e tirato i calci, non c'è più questa animosità l'uno contro l'altro. Si ride, si scherza, si fa festa. Perché? Perché Dio sta in mezzo all'ora. Ma ancora di più, Dio si mette i grempiule e serve a tavola. Noi facciamo parte della vita divina. Questa è l'eredità grandiosa, bellissima. Non c'è altro. Non dobbiamo desiderare altro che vivere con Dio la vita divina. Il discepolo amato ricordava bene quella accorata parola da Dio del Maestro Necenacolo. Il vostro cuore non si turbi. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre non vi sono forse molti posti. Se forse diversamente ve l'avrei detto perché io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, tornerò e vi prenderò con me affinché dove sono io siate anche voi. Bello questo. La parola di Dio, consolante, bellissima. Non da sola andremo in cielo. Sarà Cristo stesso che verrà a prenderci e ci porterà e ci presenterà a Dio Padre. L'essere in Cristo qua giù, mediante la grazia, deve trasformarsi nell'essere con Cristo lassù, mediante la gloria. La grazia, secondo l'espressione di Gesù stesso, è una sorgente d'acqua zampillante nella vita eterna. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per noi. Illumine egli gli occhi del nostro cuore affinché conosciamo a quale speranza egli ci ha chiamati, qualsiasi per i santi la ricchezza della gloria della sua eredità. Grazie. 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 Grazie.